Una spinta al mancorrente è stata inaugurata ufficialmente a Vedano Lona la Wheelchair School, una vera e propria scuola del movimento in carrozzina per persone con disabilità. È aperta a chiunque deve ricominciare a muoversi diversamente nella quotidianità per lavorare come per avvicinarsi ad una disciplina sportiva. Pensate realizzata dall'associazione sportiva Life Ability in collaborazione con l'associazione sportiva Gimnik Club e Bamboo SRL. A far squadra con la locomotiva dell'idea Valentino Statella, campione di sollevamento pesi e vicepresidente del Comitato Paralimpico Lombardia. L'amico Davide Gardonna, che da subito ha sposato, il progetto è diventato grande e concretamente utile a tante persone. Un conto è far pratica all'interno delle unità spinali, assistiti per ogni cosa. Altro è muoversi sul marciapiede, entrare in un negozio come in un ufficio pubblico o in una scuola. A volte basta poco, ma solo per chi ha già reacquistato autostima o comunque domestichezza con mezzi e usili. Più spesso servono esempi positivi, utili a recuperare un sorriso e una volontà solo sommersa da una vita improvvisamente e totalmente diversa.